... Pizzana Basso, segretaria di CGL Veneto. Oggi siete un migliaio in piazza, in campo, anzi a Venezia, per manifestare per i sociali. Quali sono le urgenze avvertite da questo settore? C'è una grande emergenza sociale. Le famiglie sono in difficoltà per l'inflazione, per i salari bassi, per la precarietà. Oggi chiediamo alla Regione di intervenire per le persone più fragile, quelle che hanno delle persone in casa di riposo, quelli che devono pagare le rette negli asili nido, quelle che devono pagare l'affitto. Chiediamo alla Regione di trovare i soldi per coprire gli aumenti che ci sono stati, perché altrimenti le persone devono scegliere se pagare la retta o pagare la bolletta. Questo non è ammissibile. Quindi noi chiediamo alla Regione un intervento urgente. L'ipotesi di aiuto era con l'intervento dell'addizionale IFF che invece è saltata. Noi chiediamo da tempo alla Regione Veneto di intervenire con un'addizionale sui redditi più alti, proprio perché queste risorse devono essere finalizzate a dare queste risposte di cui parlavo. La Regione trova i soldi. Per noi è importante che queste risposte siano date urgentemente. La Regione Veneto di intervenire con un'addizionale sui redditi più alti,